Spaventoso incidente nella mattinata di martedì 8 marzo, in via maestri del lavoro, dietro la fattoria, all'altezza dell'azienda agricola Valier, a Rovigo. A scontrarsi, secondo le prime informazioni, due auto, una delle quali è stata scaraventata nella scarpata a bordo strada. Sono tre le persone ferite. Le operazioni di soccorso sono ancora in pieno svolgimento. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del SUEM, che hanno messo in campo la consueta grande professionalità, accompagnata da celerità e prontezza. Sul posto, per i rilievi, il personale della polizia locale, presente in forze, che ha avuto anche il compito di gestire il traffico intenso in zona. Anche questa incombenza è stata svolta con grande bravura, pesanti i disagi per la circolazione.